Noi vogliamo continuare su quella strada, è chiaro, come comunque abbiamo già fatto anche con l'Ucraina che era stata un'ottima partita. Quindi dobbiamo continuare su questo che è la strada da seguire. Dobbiamo cercare di migliorare perché anche se abbiamo fatto un'ottima partita possiamo migliorare molte cose. In primis quella di cercare di far gol prima e non soffrire fino alla fine. E poi limare un po' di problemi che ci sono, ma questo credo sia dovuto al fatto soprattutto che comunque la squadra è la seconda volta che gioca insieme. Quindi con un po' più di tempo credo che si possa migliorare molto. Primo posto, noi giochiamo per battere il Portogallo e sperare che poi la Polonia vinca una partita nel gruppo, pareggi. Però chiaramente noi dobbiamo giocare la gara con il Portogallo per vincere, per essere una squadra come abbiamo fatto nelle ultime due partite. Molto propositiva questo. Chiediamo una cosa, qui non è bocciato nessuno perché noi abbiamo ancora un po' di tempo fino all'Europeo, ci sono le qualificazioni di mezzo. Quindi nessuno è bocciato, anche quelli che fino ad oggi non sono mai venuti, che però stanno facendo bene in campionato. Così come quelli che sono venuti e oggi non sono stati chiamati. Sono tutti i giocatori che fanno parte di questo gruppo e possono essere chiamati in qualsiasi momento. Quindi bocciato non c'è nessuno. Grifo perché è un giocatore che era già stato chiamato nell'Under-19, nell'Under-21. Parlando con Chico Evani che l'aveva avuto, io lo stavo seguendo un po' per valutare gli italiani che noi non conosciamo all'estero. Essendo un'ala che può giocare a destra e a sinistra, ci piaceva vederlo direttamente. Sensi perché è un giocatore tecnicamente bravo, gioca comunque a buoni livelli da anni e ha caratteristiche simili agli altri centrocampisti. Quindi avere anche delle alternative e tonali perché ha 18 anni, l'ho seguito molto nell'Europeo Under-19. È stato uno dei migliori, ha qualità, ha tecnica e anche un giocatore difficilmente superabile. Quindi averli tutti i giorni per dieci giorni credo ci possa aiutare a conoscerli meglio. Grazie per la visione!